Vicenza. Multe come se piovesse per divieti di sosta, ingressi in ZTL, eccessi di velocità per violazione del codice della strada. Sanzioni che arrivavano dal Lazio e dalla Toscana, da Roma e Firenze. Vittima un ignaro pensionato che con la sua piccola smart in quelle località però non c'era mai stato. L'anziano ha subito sporto denuncia ma le multe sono continuate ad arrivare, 46 in tutto in tre anni. L'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una sanzione arrivata dalla Toscana di 200 euro per aver avvicinato una prostituta. Alla fine però il truffatore è stato individuato, si tratta di un cittadino rumeno che girava anche lui con una smart ma la targa clonata era quella del pensionato. L'uomo è stato denunciato.